Ben ritrovati in studio per una nuova puntata di Varese in Rosa e diamo subito il benvenuto alle nostre due ospiti di oggi, Rossella Marcello della cooperativa Arca, ben ritrovata, ed Erika Martegani della cooperativa Arca ma anche assessore alla cultura e all'istruzione del comune di Tradate. Buongiorno, benvenute in studio. Siamo qui per parlare ancora una volta di Arca, delle tante attività che vengono appunto proposte anno dopo anno dalla cooperativa ed in particolar modo ci soffermiamo sulla camminata. Camminata che è arrivata quest'anno alla seconda edizione, si è svolta nel mese di settembre e che ha realmente riscontrato un grande successo. Circa 500 le persone che hanno partecipato con una grande adesione anche da parte delle scuole, quindi insomma anche un modo per aprire il mondo di Arca all'esterno e far conoscere anche ai più piccoli che cosa sia in qualche modo la disabilità. Sì, allora abbiamo appunto fatto la seconda edizione della camminata Piccoli Passi, quest'anno l'abbiamo voluta intitolare Un passo dopo l'altro perché abbiamo scelto di inglobare il più possibile tutte le realtà territoriali partendo dalla scuola ma anche da associazioni che comunque sono importanti per il nostro territorio. La camminata voleva essere un qualcosa che non solo rappresentasse l'evento della disabilità inclusa all'interno dell'istituto scolastico ma volesse essere un qualcosa che poteva aprire l'anno scolastico e poteva in qualche modo rimanere segno per tutti i bambini di un qualcosa di bello da condividere insieme. Noi di Arca abbiamo scelto di utilizzare quest'anno la bolla di sapone come elemento che ci ha accompagnato per tutta la camminata ma perché un po' perché la bolla di sapone è ormai un qualcosa che ci rappresenta perché facciamo ormai diversi spettacoli teatrali sul territorio utilizzando proprio la bolla di sapone come strumento magico ma perché all'interno del concetto di bolla di sapone noi ci vediamo la nostra specificità la nostra unicità. Non esistono bolle di sapone uno uguale all'altra, esistono tante bolle di sapone che hanno dimensioni diverse ma che nonostante tutto danno la loro magia, fanno il loro tragitto e in qualche modo comunque lasciano il loro segno. Questo è quello che noi abbiamo cercato di comunicare con il nostro evento. È stato bellissimo, è stato emozionante perché davvero quest'anno abbiamo visto più di 500 persone di tutte le età, da bambini piccoli ma anche da adulti che hanno comunque voluto condividere con noi questo momento. Tanti gli insegnanti, tanti appunto i rappresentanti delle altre realtà territoriali e soprattutto è stato molto bello poter condividere questo evento con la partecipazione del Comune di Tradate che ha creduto in noi, che ci ha aiutato ad organizzarlo e grazie a loro ci ha fatto conoscere la Proloco, un'altra realtà importantissima sul territorio. Grazie a loro c'è stato un momento di merenda per tutti i bambini a fine camminata, organizzata benissimo ma che poi rappresentava davvero la chiusura di un qualcosa che è stato tanto sentito, è stato davvero tanto emozionante. Erika, appunto, tante associazioni in rete, quindi ovviamente importantissimo ruolo del Comune che per primo si mette in campo per sostenere attività come questa ma anche importante far sì che siano proprio le associazioni a collaborare, in questo caso appunto Arca, Proloco, quindi più realtà unite per un grande evento. Sì, assolutamente questo è il compito dell'amministrazione, quindi sostenere gli eventi importanti e belli come quello della camminata a piccoli passi e promuoverli il più possibile e cercare di creare quella rete fra le varie associazioni in realtà territoriali in modo tale che possano collaborare e aiutarsi l'una con l'altra per rendere questi eventi davvero speciali. L'amministrazione è molto orgogliosa di questo evento che ormai è alla seconda edizione perché non è solo un evento organizzato da Arca insieme alla scuola, al Comitato Genitori, a Proloco e a tutte le associazioni o cooperative del territorio ma è l'evento per tutti i bambini e le famiglie ormai, quindi all'interno della nostra città è diventato un momento gioioso di condivisione per le famiglie e per tutti i bambini che in quel momento sono tutti insieme a camminare per le vie della città con un clima davvero gioioso e di festa grazie anche al supporto della banda, insomma tutte le realtà territoriali mettono il loro piccolo pezzettino per rendere questo momento, come diceva Rossella, davvero magico. Ed appunto tu sei anche assessora all'istruzione, oltre che alla cultura per te è proprio importante sottolineare questo aspetto, quello legato alle scuole, lo dicevamo ad inizio puntata, attività come queste consentono anche di educare i bambini, quindi far conoscere ciò che è diverso e soprattutto imparare a rispettarlo. Assolutamente sì, l'educazione esperienziale è forse quella più efficace, noi dobbiamo ringraziare i plessi di tradate perché hanno comunque una dirigente che collabora moltissimo con l'amministrazione, collabora molto con tutte le associazioni e le realtà territoriali, quindi sicuramente non mancano le esperienze sul territorio da condividere, esperienze che fanno poi parte del bagaglio culturale e formativo dei nostri ragazzi, quindi imparano a viversi la città in un modo diverso. Certo, ed appunto Rossella l'obiettivo è quello di continuare a collaborare con le scuole, di tradate non soltanto, quindi cercare di rendere Arca sempre più attrattiva sul territorio e cercare soprattutto di trovare queste collaborazioni con varie scuole. Sì, assolutamente, anche perché noi crediamo che ognuno di noi ha la propria specificità e la propria competenza. Arca ha la fortuna di avere all'interno una serie di professionisti davvero molto specializzati e quindi riteniamo un po' riduttivo a volte fare un lavoro solo all'interno delle mura del nostro centro, ma riteniamo molto prezioso invece poter comunque condividere le nostre professionità, le nostre esperienze con chi in realtà come noi tutti i giorni si rapporta a bambini che non hanno solo disabilità fisica o intellettiva, ma magari hanno anche delle fragilità comportamentali o altri tipi di criticità che basta un pochino confrontarsi e mettere insieme per poter comunque dare un aiuto di grande valore. Quest'anno sarà un anno per Arca molto molto importante perché abbiamo vinto un piccolo bando che vede coinvolto in primis il distretto di tradate, l'istituto comprensivo Galileo Galilei e questo grazie davvero come diceva Erika al fatto che la dottoressa Tagliello, attualmente preside dell'istituto, ha creduto in noi, ha comunque condiviso il nostro progetto, ma vede anche l'adesione di altre realtà scolastiche fuori dal distretto, sono nello specifico Saronno, Lonate e Cairate, dove andremo a lavorare all'interno della scuola con le nostre specialità. Installeremo nello specifico una stanza multisensoriale, la stanza Snudren, chi ci conosce sa che già l'avevamo presentata qualche tempo fa, l'abbiamo installata all'interno di Arca, abbiamo visto la preziosità di questo elemento davvero come setting utile per aiutare i nostri ragazzi a superare tutta una serie di difficoltà comportamentali, ma anche per fare tutto un lavoro di potenziamento, di abilità e abbiamo avuto la possibilità di installare questi angoli all'interno delle scuole. Oltre a questo lavoreremo tantissimo con la comunicazione aumentativa alternativa, che è il nostro secondo pilastro di lavoro importantissimo in cui noi crediamo tantissimo come Arca, nello specifico poi Erika è la specialista di comunicazione aumentativa alternativa, ma perché crediamo che sono strumenti che non sono solo per la disabilità, sono strumenti che possono essere adattati a tanti altri tipi di difficoltà e possono essere realmente preziosi per aiutare quelle fragilità che tante volte poi rimangono un pochino chiusi in se stessi e questo ripeto grazie comunque al fatto che le realtà sul territorio hanno creduto in noi e quindi quest'anno sarà un anno molto molto importante. Speriamo insomma arrivare a giugno e potervi dire è stato un anno davvero davvero prezioso e dove porteremo dei risultati. Certo, molto rapidamente ricordiamo la stanza multisensoriale che cosa nei fatti propone appunto ai ragazzi e bambini. Sì, la stanza multisensoriale nello specifico si chiama Sluzle Room, è una realtà che comunque arriva dalla nord Europa ed è un allestimento di un ambiente con esesperazione di tanti stimoli multisensoriali. È un qualcosa di nuovo sul territorio proprio perché c'è tutta una ricerca scientifica che in realtà vede con la lente di ingrandimento tante piccole reazioni dei ragazzi che comunque vengono messi all'interno della stanza e danno tutta una serie di risposte agli stimoli multisensoriali. È ovvio che la differenza lo fa l'operatore, ci deve essere fondamentale una formazione per l'utilizzo della stanza Sluzle. Arca ha investito tantissimo, lo continuerà a farlo, a breve faremo una formazione ad esempio per tutti gli operatori di Arca con l'Associazione Internazionale, con l'ISNA, ma perché crediamo che non si può improvvisare ad utilizzare una stanza multisensoriale, se no rischiamo di utilizzarla come spazio libero. Invece è un qualcosa di prezioso che deve essere realmente usato con un'intenzionalità di lavoro molto delicata, molto attenta, davvero ripeto con una lente di ingrandimento guardando la risposta dell'utente e solo così si può fare un certo tipo di lavoro, anche riabilitativo, anche terapeutico. Certo, voi ormai è un po' che utilizzate questa stanza, quindi dato che come dicevi tu è molto importante vedere qual è la reazione, quali sono stati i risultati per ora raccolti? Avete avuto appunto dei risultati buoni? Ma allora assolutamente, in primis da punto di vista comportamentale, nel senso che tutti, soprattutto con bambini che hanno una patologia di autismo, abbiamo visto comunque come decrementano, riducono i comportamenti, magari problema o delle agitazioni comportamentali in determinate situazioni, facilita proprio un detenzionamento, viene utilizzata tante volte come rinforzo a dei comportamenti positivi che loro comunque hanno durante la giornata, per loro diventa realmente un premio potersi anche detenzionare una stanza di questo tipo. Ma non solo, altre volte si fanno tutto un lavoro di potenziamento di capacità intellettive, la risposta di causa-effetto, il fatto che noi utilizziamo la comunicazione aumentativa all'interno della stanza, gli stessi fisioterapisti ci hanno portato comunque dei dati dove riescono a fare dei trattamenti fisioterapici, partendo dai 5 minuti sono arrivati a trattare 20 minuti un paziente. Quindi sono tutti dati che ci portano a far capire quanto sia prezioso saperla utilizzare. Certo, quindi è ancora più importante portare attività di questo tipo nelle scuole, dato che spesso bambini con queste problematiche appunto si trovano anche a vivere l'ambiente scolastico quotidianamente. Posso fare solo una ultima specifica? Ci tengo anche a dire che abbiamo fatto dei laboratori con bambini di una scuola materna, quindi con bambini che non avevano nessun tipo di disabilità, ma era stato molto molto gratificante vedere come loro sono riusciti a tenere un'ora e mezza un'attività di ascolto, di lettura, di ascolto del proprio corpo, delle proprie percezioni, grazie proprio alla respirazione di uno stimolo multisensoriale. Quindi ancora di più un setting che non è solo per la disabilità, è qualcosa che può realmente essere adattato. Aiuta anche a ritrovare forse un po' la calma, quindi ovviamente ritrovando pace, calma e tranquillità si riesce ad interagire con più facilità anche con i bambini piccoli. Sì, sì, ad esempio viene anche utilizzata tantissimo nel nord Europa per il recupero del rapporto genitore-bambino. Certo. Insomma, c'è tanto, si può fare davvero tanto e bisogna però saperlo fare. Ed appunto per concludere, l'amministrazione comunale desidera andare in questa direzione e continuare a lavorare proprio per proporre collaborazioni di questo tipo? Assolutamente sì. Arca ha proposto dei progetti di vera inclusione scolastica. Noi come amministrazione siamo orgogliosi di avere sul territorio delle piccole eccellenze come la stanza Snusen che entrerà proprio all'interno dei plessi scolastici e che sarà un vero strumento relazionale da utilizzare per tutti i bambini, quindi non solo più per i bambini disabili, ma finalmente della sana inclusione all'interno delle nostre scuole. Quindi siamo molto contenti. Bene, io vi ringrazio molto per questa chiacchierata, ovviamente in bocca al lupo per tutti questi progetti. Speriamo di ritrovarci presto per parlare di altri obiettivi raggiunti. Grazie mille. Grazie mille a voi. Grazie, grazie a voi da casa. La prossima puntata di Varese e Rosa. Arrivederci. Grazie a voi.